eccoci buongiorno a tutti grazie per esservi connessi aspettiamo ancora un minuto prima di iniziare con il nostro webinar ci siamo quasi eccoci ok direi che adesso possiamo iniziare di nuovo grazie per per esservi connessi io sono sono mattia montepara sono uno dei co founder di sibyl sibyl è come alcuni di voi sanno è uno strumento che aiuta gli imprenditori e i team che lavorano con quegli imprenditori per semplificar loro le attività di gestione della cassa e attività di gestione contabile con uno strumento che vuole essere quindi uno strumento per rendere una serie di processi aziendali che sono solitamente svolti in modo manuale o con dei tool magari non proprio moderni ecco rendere con tutto questo con sibyl molto più semplice durante questo breve webinar faremo una sintesi di quello che oggi la piattaforma consente ma soprattutto ci concentreremo sulle novità che oggi sibyl introduce le novità che hanno a che fare con una pianificazione finanziaria più profonda che quindi vuole consentire non soltanto di analizzare sempre su sibyl i propri flussi di cassa ma anche di prevederli attraverso un budget e poi quindi di confrontare ogni mese in ogni periodo man mano le l'andamento della dell'azienda con con quanto si era previsto io adesso inizierò una condivisione del del mio schermo e da qui partiremo quindi con partiremo con l'utilizzo di sibyl potete come già ricordato dai miei colleghi potete intervenire fare domande qualora ne avete perché alla fine della della dimostrazione poi lasceremo la parte finale della del questo di questo momento insieme per per le domande eccoci quindi su sibyl sibyl è come vedete uno strumento nato per innanzitutto centralizzare i dati quindi su sibyl voi troverete sempre i vostri dati sia finanziari quindi dati che vengono dalle vostre banche sia i dati contabili quindi dati delle delle fatture su sulla piattaforma automaticamente caricati quindi senza nessun bisogno di di manualità e soprattutto poi messi all'opera messi al lavoro per darvi informazioni in tempo in tempo breve ecco che qui stiamo guardando una la nostra pagina che è la pagina anche di atterraggio di sibyl che è la pagina dedicata all'analisi dei flussi di cassa analisi di flussi di cassa che è possibile quindi andando a connettere il dato dato della banca delle vostre banche su sibyl attraverso dei fornitori che noi utilizziamo che utilizzano e sfruttano un po' il dettato della 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 norma sull'open banking e che in modo molto sicuro riescono a quindi trasferire sulla nostra piattaforma i dati delle informazioni delle transazioni bancarie queste transazioni sono quindi poi mostrate su sibyl mostrate su sibyl e aggregate innanzitutto in modo diciamo macro quindi andando a mostrare a mostrare le entrate e le uscite per ciascun periodo ok ma poi quello che sempre la piattaforma fa vi consente di andare a fare un'analisi più profonda di come la cassa della vostra azienda si è effettivamente mossa e questa questa analisi la viene viene appunto permessa attraverso la creazione di categorie e sotto categorie di entrate e di uscite che vi aiutano quindi proprio a capire e a tracciare come la cassa si è mossa questa azienda che appunto stiamo vedendo è un'azienda che ha un canale di vendita ad altre aziende quindi un canale di vendita b2b ha un canale di vendita alla clientela diretta ok fa per esempio attività di delivery perché è un'azienda che fa del cibo e poi ha delle spese che sono spese per fornitori spese di affitto spese di gestione e quindi con queste categorie e con le relative sotto categorie ok voi siete in ogni momento in grado di rispondere a delle domande sull'andamento effettivo del vostro del vostro business ma chiaramente è importante anche rispondersi a domande su come vengono inserite le transazioni bancarie in queste categorie ecco vediamo che su sibil il tutto inizia dalla connessione della delle vostre banche sulla sulla nostra piattaforma infatti voi da da questa sezione della nostra della nostra app potete aggiungere i vostri conti di qualunque banca al momento abbiamo appunto una copertura superiore al 80 per cento della di tutte le banche italiane connettendo i vostri conti importate i saldi dei conti ok e importate anche le transazioni dei singoli conti queste transazioni quindi sono sono importate con una profondità inizialmente di 90 giorni ma che poi può essere anche stesa verso l'anno o addirittura anche i due anni di di profondità di storico e queste transazioni possono essere poi organizzate come vedete qui in categorie che sono poi categorie che andranno a popolare la vostra analisi del flusso di cassa queste categorie possono essere create e le transazioni possono essere inserite nelle categorie in modo automatico attraverso l'impostazione di regole regole che vanno a categorizzare quindi le transazioni automaticamente attraverso l'impostazione di parole chiavi che poi vengono utilizzate per creare quindi l'automatismo così che una volta impostata la regola tutte le transazioni che rispettano la la regola da voi creata automaticamente senza il vostro intervento manuale venanno verranno inserite nelle nelle varie categorie e quindi potrete poi voi fare una vostra analisi di questi flussi ma ecco veniamo alla novità che oggi abbiamo il piacere di presentare perché fino poco poco tempo fa su sibil era consentita era possibile un'analisi dei flussi storici quindi voi potevate venire qui e rispondere a domande del tipo come sono andato come è andata la mia azienda nel nel tempo passato da oggi quello che potrete appunto voi fare sarà anche un'analisi dei flussi attesi quindi voi potrete impostare direttamente su sibil un vostro budget in modo molto molto veloce intuitivo un budget che vi consentirà quindi di fare delle previsioni per i mesi che seguono il mese in corso ok fare delle previsioni e poi a confrontare le vostre previsioni con il risultato effettivo capire se effettivamente potrete voi avvicinarvi a quelle che sono a quelli che sono gli obiettivi del vostro anno del vostro trimestre del vostro mese ma vediamo per esempio come impostare delle voci di budget vediamo che qui appunto abbiamo fino a marzo delle voci che ormai sono voci consuntive perché si stanno sono verificate per gennaio e febbraio si stanno verificando per per marzo ecco vediamo però che da aprile in poi noi possiamo inserire per ciascuna sottocategoria e categoria possiamo inserire dei valori possiamo inserire dei valori e per esempio eh immaginare che con questo cliente chiamato appunto tafone snc possiamo eh aspettarci un valore di eh ricavi di cinquemila euro e possiamo anche pensare che se questo cliente è un cliente con cui abbiamo un contratto ricorrente possiamo rendere ricorrente la nostra la nostra previsione l'incasso e qui vediamo quindi che eh per tutti i mesi che verranno fino all'ultimo del duemilaventitré ci aspetteremo da questo cliente cinquemila euro di incasso e vediamo come appunto anche il mio previsionale è cambiato istantaneamente così da darmi una un'idea di quale sarà l'entrata prevista nel dicembre duemilaventitré e anche il saldo eh il saldo a fine mese questo chiaramente non soltanto per dicembre dicembre duemilaventitré ma per tutti i mesi che noi siamo stiamo siamo analizzando ecco che eh una volta che abbiamo impostato quindi il nostro il nostro budget possiamo anche eh attivare sempre su sibil la l'analisi quindi di confronto con con i valori consuntivi eh con quest'analisi in ogni momento andiamo a per chiaramente per i mesi in cui abbiamo effettivamente dei valori già verificati possiamo eh andiamo possiamo confrontare quindi il valore consultivo con il valore previsionale quindi ad esempio ad aprile duemilaventitré abbiamo una eh aspettativa di quarantunomila euro di entrate da clienti B2B e man mano che il mese di aprile andrà avanti noi effettivamente potremo confrontare il valore eh generato e quindi rispondere di nuovo a domande eh in in tempo praticamente eh reale perché la nostra eh la nostra il nostro aggiornamento di dati è un aggiornamento di dati che avviene eh più di cinque volte al giorno e quindi eh capire intervenire eh in modo assolutamente eh tempestivo qualora ci fossero degli squilibri ehm all'interno dell'andamento o di una specifica categoria o in generale di tutta l'azienda. Ecco che eh quindi questa questa eh nuova funzionalità eh consente non soltanto quindi un'analisi sulla piattaforma ma qualora fossero poi necessarie delle ulteriori analisi si potrebbero e si possono sempre scaricare dei report eh che poi si possono eh sia condividere con il team con il proprio consulente con il proprio commercialista con la banca con cui si lavora per ad esempio eh ottenere eh dei dei finanziamenti eh e rinegoziarne eh di altri ecco che poi quindi il dato diventa questo eh una una base di partenza per poi un utilizzo per fare un utilizzo eh molto molto variegato. Ehm Sibil quindi eh consente una una serie di azioni eh partendo dal flusso di cassa ma non solo perché come vi dicevo all'inizio noi siamo eh siamo una piattaforma che centralizza su eh di un un unico posto in modo automatico informazioni finanziarie ma anche informazioni contabili. Come lo facciamo? Vediamolo subito. Noi eh nella sezione appunto eh chiamata fatture su Sibil riusciamo a collegare eh la piattaforma con alternativamente fatture in cloud oppure il cassetto fiscale e eh in base a queste connessioni riusciamo a eh quindi scaricare le informazioni di fatture ricevute ed emesse oltre che per le aziende che ce l'hanno anche dei pericoli rispettivi. Queste per esempio sono chiusure di di registratori di cassa e per le fatture appunto ricevute ed emesse andiamo a importare tutte le informazioni della fattura. Eh informazioni sul documento ma anche informazioni sulle scadenze. Queste informazioni poi possono essere sono sono qui per essere eh utilizzate eh gestite perché qui si possono modificare gli stati di pagamento se una una determinata fattura è pagata oppure si possono aggiungere scadenze qualora questa fattura eh avesse dei piani rateali non non specificati sul sul documento. Ma eh proprio perché noi vogliamo aiutare a eh rendere automatiche cose che oggi sono manuali quello che facciamo è leggiamo eh le informazioni contenute nelle fatture appunto ricevute ed emesse e le organizziamo su uno scadenzario che è uno scadenzario direttamente compilato da Sibil e che finalmente in modo diretto veloce consente a voi eh di rispondere a domande del tipo quali saranno le fatture che io dovrò pagare entro la fine del del mese di marzo. Quindi eh in base a quanto dovrò pagare avrò la liquidità necessaria per far fronte a questi impegni? Se sì bene se no potrò in alternativa rivolgermi alla mia banca negoziare con i miei fornitori in termini di pagamento diversi. Quindi potrò agire ma agire eh a fronte di una diciamo di uno sforzo minimo di reperimento dell'informazione. Ecco che qui quindi sulla eh sullo scadenzario posso gestire le mie scadenze eh e quindi qualora eh una determinata fattura eh risultasse eh ora pagata invece eh appunto che eh nel passato risultava da pagare posso qui venire e aggiornarla così che eh scompare dal mio scadenzario. Ecco che quindi appunto Sibil diventa il centro per organizzare e eh gestire proattivamente non soltanto quindi i miei flussi di casa ma anche i miei flussi i miei flussi contabili, il mio circolante. Avendo noi a disposizione qui le nostre le informazioni delle fatture e qui anche le informazioni delle transazioni bancarie eh appare evidente la l'opportunità di mettere in comunicazione queste due informazioni. Quindi eh che vuol dire per noi mettere in comunicazione? Vuol dire semplificare le operazioni di riconciliazione. Quindi semplificare le operazioni che vanno a matchare in un unico posto da un lato le transazioni bancarie e dall'altro le ehm le fatture. Quindi questo cosa significa? Significa che ehm se ad esempio voglio riconciliare una fattura con ehm una transazione bancaria con la corrispondente fattura posso farlo perché qui appunto so che questo pagamento è a saldo di queste due fatture e quindi io con cercando questa controparte posso andare a vedere che effettivamente eh ho queste due fatture importate su Sibil e le posso quindi riconciliare così che il movimento è appunto verificato e le fatture risulteranno pagate. Una volta che ho terminato questo eh questo procedimento posso eh quindi eh avere la mia prima nota già compilata. Compilata e scaricabile. Scaricabile eh in formato in un formato classico di prima nota eh adesso la proviamo a scaricarla per febbraio che sicuramente ha già tutti i dettagli. Un formato classico di prima nota in formato scalare. In formato scalare ehm con il dettaglio appunto delle fatture con cui eh le singole transazioni bancarie sono state riconciliate. Documento che poi è immediatamente condivisibile con il proprio consulente, con il proprio commercialista eh e eh documento che quindi possiamo eh utilizzare eh per per varie eh attività quindi di chiusura del mese. La piattaforma eh tra l'altro è una piattaforma che ben si presta a eh aziende che vogliono più utenti lavorare sugli stessi dati e inoltre eh è anche una piattaforma molto adatta a quegli imprenditori tantissimi in Italia che hanno più aziende perché appunto su Sibili su Sibili si possono connettere quante aziende si vuole così da eh in modo molto semplice e molto veloce avere una eh una panoramica dell'andamento di tutte di tutte le eh le aziende che sto che sto controllando. Ecco io in questo momento interrompo la condivisione del dello schermo ehm vedo che sono arrivate eh sono arrivate molte eh molte domande quindi questo ci fa molto piacere ehm adesso eh direi che rispondiamo ad alcune e poi su quelle a cui non riusciamo di nei nei negli undici minuti che abbiamo a disposizione possiamo ehm possiamo appunto eh rispondere eh in separata sede direttamente contattandovi se abbiamo i vostri contatti oppure poi vi inviteremo a lasciarceli così potrete eh potrete ecco ehm ricevere risposta. Allora partiamo dalla prima domanda. Allora c'ho prima un commento su cui non si sente più, spero che nel frattempo si sia eh si sia sentito perché sarebbe un problema. Ehm allora qui vedo che il webinar si può rivedere in un secondo momento. Allora confermo che il webinar si può rivedere in un secondo momento eh sarà registrato, lo troverete sia sul nostro canale YouTube che ehm che poi potremo potremo ecco inviarvelo ehm potremo inviarvelo senza 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 problemi ecco. Ehm ok per quanto riguarda eh invece l'altra domanda che eh l'altra domanda che vedo eh sulla previsione può essere solo mensile o anche settimanale. In questo momento la previsione è su base mensile ma ehm è in cantiere anche rilascio su base su base settimanale. Eh vedo un'altra domanda su quindi la 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 ripropongo quando si imposta una fattura impagata su Sibill automaticamente si imposta come pagata anche su fatture in cloud. No, questo purtroppo non succede. L'obiettivo di Sibill è quello di eh svolgere le operazioni di aggiornamento degli stati di pagamento delle fatture direttamente sulla piattaforma. Eh quindi eh noi eh quello che vediamo tantissimi clienti fare è importare il dato da fatture in cloud o dal cassetto fiscale e poi però aggiornare il dato direttamente su su ehm su Sibill. Questo perché poi eh le operazioni di riconciliazione sono eh immediate avendo anche il dato bancario ehm e poi essendo questo questo dato immediatamente anche condivisibile con con il proprio consulente o con il proprio con i propri collaboratori. Allora c'è un'altra domanda che eh chiede appunto è possibile avere una visione per competenza e non per cassa? Allora questa è un'ottima domanda eh in questo momento ehm diciamo eh il il focus eh di Sibill eh per quanto riguarda l'analisi dei flussi è quindi un'analisi su flussi finanziari. Quindi questo vuol dire che i flussi che vengono analizzati sono flussi chiamiamoli così certi ehm per quanto riguarda la la visione per competenza eh ecco lì c'è lo scadenzario che eh aiuta a rispondere e ad avere una panoramica dei movimenti eh per competenza ehm certo è che nel momento in cui si imposta un eh una un flusso di cassa eh ci sono poi c'è la possibilità anzi se si vuole inserire un un budget bisogna inserire delle ehm delle grandezze che si verificheranno eh si verificheranno nel futuro ehm quindi ecco c'è però una una distinzione quindi per eh analisi finanziaria si eh analizzano appunto i flussi di cassa per analisi di competenza su Sibill si può analizzare il lo scadenzario. Allora ehm qui vedo potresti farci vedere come si crea una sottocategoria allora ehm adesso magari questo lo possiamo lo possiamo ehm in un secondo momento fare eh insieme eh dovremmo avere i i tuoi dati eh e quindi eh potremmo mandarti un un piccolo video in cui assolutamente mostriamo come come si crea una una sottocategoria. Ehm è possibile vedere il il webinar in differita? Assolutamente sì, riceverete tutti i dettagli. Ehm l'aggiornamento di Sibill è già attivo sugli account. L'aggiornamento è attivo da eh lunedì mattina. Eh in questo momento siamo in ehm diciamo in fase di test con un alcuni ehm alcuni account preselezionati ma da lunedì mattina sarà attivo su tutti gli account Sibill. Per quanto riguarda l'integrazione con Banca Sella purtroppo eh Banca Sella è una delle banche che che fanno parte di quel venti per cento eh che eh ahimè non è ancora collegabile ehm su Sibill. Stiamo però lavorando per consentire eh quanto prima la connessione di eh Banca Sella ma anche di tutte le altre banche che al momento non ci sono. Allora per quanto riguarda invece la domanda se Sibill è integrato solo con fatture in cloud o altri gestionali al momento l'integrazione diretta c'è solo con fatture in cloud ma avendo una connessione anche con il cassetto fiscale a prescindere dal gestionale si possono recuperare automaticamente informazioni di fatture fatture attive fatture passive anche per esempio incluse le le autofatture per fatture con con soggetti esteri senza problemi. Allora eh per quanto riguarda la domanda è compresa nel prezzo l'assistenza fino a quando si prende dimestichezza per chi per chi inizia da zero assolutamente sì eh il il nostro team è è lì per questo ehm il nostro team è qui è lì per questo e e quindi eh e segue i nostri i nostri clienti eh non soltanto fino a quando si ha dimestichezza ma anche poi in ogni momento eh eh servirà eh supporto su 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 qualunque tema. Poi altra domanda è possibile simulare l'analisi per competenza considerando ad esempio fatture in cloud come se fosse una banca? Eh ottima domanda al momento questo non è possibile ehm è però eh questo uno come 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 l'altro eh che che menzionavo prima è un cantiere di eh di lavoro perché sappiamo quanto è eh importante, rilevante eh per per tutti gli imprenditori che che ci utilizzano. Quindi non c'è ancora questa questa opzione eh ma è un è un qualcosa su cui stiamo lavorando. Ultima domanda che vedo scadenzare solo per fatture è possibile inserire altre tipologie di documenti soggetti a scadenza. Allora innanzitutto eh è possibile inserire manualmente eh dei documenti che eh magari non sono ancora o non sono eh non saranno mai per esempio fatture eh elettroniche. Quello è possibile fare eh è possibile farlo già da già da adesso. Se ad esempio però ci riferiamo a inserire eh delle 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 movimentazioni quali stipendi, pagamento affitto, ehm pagamento di polizzi o altri strumenti finanziari, in quel caso si può assolutamente fare nella parte dedicata ai flussi di cassa. Avete previsto la possibilità di effettuare la categorizzazione sulla base di un importo oltre che su su keyword. Allora ehm abbiamo previsto eh lo abbiamo considerato eh la il processo di categorizzazione è già eh in ehm in ristrutturazione chiamiamolo così ehm è già in ristrutturazione e vuole essere ancora più intuitivo eh di quanto è di quanto è oggi. Ehm quindi diciamo che ci riserviamo la la possibilità poi di aggiornarvi non appena sarà eh finalizzato per eh non tanto per presentarvelo in base ma per raccogliere eh feedback ehm su su quanto poi abbiamo abbiamo pensato. Quindi è sicuramente qualcosa su cui eh i nostri clienti eh riceveranno eh diciamo una un nostro sollecito per per dirci eh cosa effettivamente ne pensano sul sulla soluzione prevista. Allora io eh non vedo in questo momento più eh domande. Abbiamo altri due minuti quindi qualora ci fossero domande dell'ultimo minuto, ultimo secondo, ultimo secondo, sarei felicissimo di di rispondere. Qualora ehm arrivassero adesso appunto risponderò nel mentre ehm come vi dicevo riceverete eh la registrazione di questo webinar ehm avete tra l'altro ehm i nostri contatti sul sibil.com potete eh su sibil.com e su ehm sulla mail eh infocchiocciola sibil.com potete raggiungerci in ogni momento eh abbiamo veramente dei tempi di risposta molto eh brevi quindi eh possiamo in ogni momento eh rispondervi. Ecco un'ultima domanda. Le scadenze su fatture possono essere cambiate manualmente se nella fattura sono rispondate? Assolutamente sì. Assolutamente sì perché ehm è sufficiente selezionare la eh la fattura eh e ci sono appunto delle eh delle azioni possibili che eh una una tra queste è proprio l'azione modifica e lì si può eh intervenire direttamente sulla modifica della eh della data di scadenza. Quindi sì è assolutamente possibile farlo. Eh su queste domande tra l'altro eh mi viene anche da eh da dire che pubblicheremo delle eh chiamiamole pillole di pochi secondi eh dedicate a ciascuna di queste piccole azioni. Quindi nei prossimi giorni riceverete anche eh appunto un link o al nostro canale YouTube oppure direttamente in mail. Quindi faremo vedere ad esempio come creare la sottocategoria, come modificare la scadenza della fattura e tante altre piccole azioni che eh si vorranno a poi fare sulla piattaforma. Ultima domanda prima di staccarci. Sarebbe opportuno prevedere nella scheda fatture la possibilità di modificare che la modalità di pagamento per gruppi di fatture oltre che lo Stato. Ok ehm questo è un ottimo punto eh è un ottimo punto e questo mi verrebbe da dire che sarà una naturale evoluzione della ehm della della sezione di Sibil dedicata alla gestione delle fatture perché è assolutamente fondamentale e anzi grazie per per averlo condiviso anche con con tutti con tutti i presenti. Io ehm a questo punto interromperei il webinar eh vi ringrazio davvero per per aver partecipato. Grazie mille anche per le numerosissime domande. Eh ci faremo sentire a brevissimo per tutti gli eventuali approfondimenti e se avete eh ripeto qualunque tipo di domanda o dubbio su di noi eh o per noi potete contattarci attraverso il nostro sito oppure la mail infochiocciola eh Sibil punto eh punto com. Ultimissima domanda avete delle API esposte? Non ancora. Eh non ancora le avremo. Siamo ancora un team un team piccolo. Siamo ancora un team piccolo eh però ecco siamo un team eh diciamo così molto esposto sulla parte tecnologica di prodotto e l'anima della nostra della nostra azienda quindi eh è e questo di tempo è questione di diventare semplicemente ehm più più grandi più maturi ma ci saranno eh al momento non ci sono ancora. Io di nuovo vi ringrazio e ci sentiamo presto per per qualunque eh domanda avrete per noi. Buona giornata.